A Cava Sagre, in via Sile, la strada sterrata che porta al Gronda è soggetta a frequenti allagamenti nel caso di normali piogge. I residenti da anni chiedono all'amministrazione la tutela del diritto di rientrare in casa in sicurezza senza essere costretti a fare delle deviazioni. Alle promesse del sindaco e del vice sindaco non è conseguita nessuna azione concreta per la soluzione del problema. Unirò la mia voce a quella dei cittadini contribuenti affinché la strada venga sopraelevata con del materiale stabilizzato.